la mostra ricordi futuri 3.0 di Aspore in terra di Sicilia un'occasione importante per ricordare non solo la storia ma per trasportarla nel presente mantenendo l'impronta importante che fatti come la Shoah, la dispersione degli ebrei toccarono il mondo intero. La mostra è una mostra soprattutto contro l'indifferenza e contro la cancellazione dell'identità, ricordi futuri perché il passato ormai difficilmente ce lo ricordiamo, il presente è così veloce che diventa un ricordo futuro. Il tema della Shoah che è la più grande tragedia della storia per numero e anche per tipo di atrocità ci deve far riflettere molto su quello che succede oggi nel mondo. Sembra che molti insegnamenti che dovevano venire dalla Shoah non sono venuti. Ha detto Liliana Segre recentemente nominata senatrice a vita, coltivare la memoria è il miglior vaccino contro l'indifferenza. Questa mostra vuole attraverso l'arte e attraverso anche delle videoproiezioni dare questo messaggio. Non è un caso che la mostra sia ospitata a Palazzo Sant'Elia, è una scelta proprio vostra dei curatori. Palazzo Sant'Elia ci ha offerto la possibilità di realizzare questa mostra per me è molto importante che questa mostra venga realizzata in Sicilia terra di migrazioni, terra in cui gli Abrei furono espulsi nel 1492 ma che è anche una terra di grande tolleranza e credo che debba essere una sorta anche di omaggio a questa terra che accoglie persone che provengono da diverse tradizioni, diverse religioni e diverse etnie. Lei cura la cultura ebraica, cerca di fondare la cultura ebraica da tanti anni. Come si mischia la storia con l'arte? L'arte a mio avviso è il migliore ambasciatore che ci può essere per trasmettere la cultura ad altre popolazioni ma soprattutto è anche un grande ambasciatore di pace e io credo che attraverso l'arte, ancora più che attraverso altri mezzi, altri strumenti, si possa nel corso del tempo e con le future generazioni mantenere intatto questo messaggio. L'installazione costa non solo di opere d'arte a tucur, c'è appunto tele o quadri, fotografie, installazioni ma anche di videoproiezioni e di interviste. C'è una videoproiezione molto importante che è un po' il cuore anche della mostra in cui scorrono in lupa alcune immagini che sono fotografie di vita degli ebrei prima della Shoah e anche di documenti che riguardano l'espulsione, luoghi pubblici o quant'altro e che finiscono in un muro nero che è l'interruzione della loro vita. Poi ci sono delle video interviste che sono state realizzate in parte a siciliani che hanno comunque avuto o parenti che sono stati deportati oppure che hanno in qualche modo avuto a che fare con la storia della Shoah. In più c'è anche una video intervista realizzata a Liliana Segre e poi anche a Daniel Liebeskind il famoso archistar che ha realizzato alcuni musei della memoria e al maestro Lottoro che è l'autore dell'enciclopedia della musica concentrazionaria.